Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video del canale Oggi vi dico le mie 10 skin che odio di più che detesto Comunque vi dico di iscrivervi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like Al diecimo posto abbiamo Fabio Foltachioma Questo qua è dell'attuale Pass Battaglia Season 8 Capitolo 2 A me non piace, sinceramente Però alcuni miei amici dicono che è bello A me non piace proprio, è bruttissimo Ha senso, non so cosa... È brutto, questo è brutto Non so se è un cavallo, unicorno Non mi ricordo, penso che è un cavallo Non mi ricordo che è brutto Non lo userò mai Però le motte, diciamo, mi piace Passiamo alla posizione numero 9 Al nono posto abbiamo Thor Thor, la skin del Battle Pass Season 4 Capitolo 2 A me non piace Non piace, però all'inizio della stagione 4 lo usavo Ma non lo uso mai Era una collaborazione insieme alla Marvel A me non piace Dall'estetica E poi Thor non è veramente così, penso E che non ho mai visto Thor E poi è brutto Passiamo all'ottavo posto All'ottavo posto abbiamo Calamity Calamity fa parte del Battle Pass Season 6 Capitolo 2 Capitolo 1 Capitolo 1 Season 6 Calamity era di livello 1 Tutti quanti andavano più ad attenzione a Calamity Perché che povero DJ Yonder Tutti quanti volevano DJ Yonder Perché quando ho visto una skin del livello 1 Insieme a DJ Yonder Tutti la da Calamity Perché non so Quando non so se avete mai giocato la Season 6 C'era questa skin Che sempre lo sapete, no? Quelle corse delle femmine Tipo saltava E vabbè Non è Family Friends Passiamo alla settima posizione Alla settima posizione abbiamo Mazza Mazza del Battle Pass Season 5 Capitolo 1 È una skin abbastanza oggi Abbastanza anche vecchia Però non è una skin più antica di Fortnite Alla settima posizione sarà prendere lui Mazza È una skin abbastanza G Poi vorrei dirvi anche di Questa skin Questa skin a me non piace Poi non so Se a voi piace Non Non è che qualcosa A me non mi piace A voi mi piace Poi dite Però per me è brutto Per voi Se per voi è bella Per voi è bella Per me è brutto Passiamo alla posizione numero 6 Alla Alla Sesso Alla posizione numero 6 Abbiamo Questa skin Non so come si chiama Non mi ricordo come si chiama Tutta brutta Una delle skin più brutte di Fortnite Che non esce anche da un sacco Non ho mai visto nello shop Una delle skin più brutte di Fortnite Nei miei punti personali Poi non so ne voi Fa parte del set 24000 Povera lusso Questo qua è il maschio di lusso A me non piace Passiamo alla posizione numero 5 Alla posizione numero 5 Abbiamo Centurione Centurione E' bruttissimo Della season 4 E non voglio parlare Passiamo alla prossima In questa posizione numero 4 Abbiamo due skin Questa Questi qua Io li chiamo Non so come si chiamano Torcine Poi non so La femmina si chiama Torcine Questa qua è il maschio Non mi ricordo come si chiama E' uno dei skin Che non escono da un sacco Non escono più di mille giorni Qualcosa del genere Ma a me non piace Non mi piacciono Non mi piacciono Però Vorrei vedere Nello shop Tutte e due Perché noi ci contavamo Da qualche mille giorni Oppure 500 giorni e pasta Qualcosa del genere Passiamo alla posizione numero 3 Alla posizione numero 3 Abbiamo Auro Ma qua mi dite Perché allora Nel tuo armadetto ce l'hai? Io mi rispondo A me piace Auro Però troppa try harder In ogni partita La vedi sempre Non la uso mai Però in ogni partita La vedi sempre Ogni volta che la vedi L'hai visto già Secondo me È una delle skin Più viste Che ho visto io Su fortnite Che l'ho odiata Già dal primo giorno Attual Per ora È una delle skin Più try harder Più odiose Della serie try harder Passiamo alla posizione numero 2 Alla posizione numero 2 Abbiamo Miascolo Miascolo è del Battle Pass Season 2 Capitolo 2 A me non piace come skin È uno dei skin più odiosi Però ha avuto una storyline Dietro Dietro alle quinte Tipo con kit Eccetera Era un boss Dello yacht Poi si era spostato Nella fabbrica Delle scatole Per colpa di Lettable Comunque A me come skin Non piace Miascolo è una delle skin Che odio di più Passiamo alla posizione numero 1 Alla prima posizione Abbiamo Mida Mo ve lo spiego Mo qua Mi volete insultare Però a me non piace come skin Però è una delle skin Di Rilio Cento Che sono funzionati Ancora Che sono state Che Hanno una storyline Dietro No Come è Assassinato la guia Che non è avuto nessuna storyline Come si chiama Quell'altro Come si chiama Fusione Però non era Sì Una delle mie skin preferite Di Rilio Cento Però non aveva tutta una storyline Poi Cavaliere Eterno Poi che altro Menace Menace Se mi sbaglierei Di Rilio Cento Poi Che altro Come si chiama La skin dello scorso pass Ah Rick Che non ha avuto nessuna storyline E anche in questa sito Non ha avuto nessuna storyline Raccarnage Skin Hanno fatto tante ship Insieme a nitroglicerina Poi insieme anche A sky Che pensavo che era la figlia di Mida O la sorella O la Ragazza Comunque Io vi dico Di iscrivervi al canale Attivate la campanina E lasciate un bel like Ci vediamo al prossimo In un prossimo video Ciao